C'è bisogno di lavoro, il lavoro manca, però è anche vero che ci sono alcune fasce di lavoro che non vengono scovate da chi lo cerca. Quindi noi cerchiamo di essere un'amministrazione che declina il sociale attraverso l'unica parola che è la parola di dignità, cioè trovare un lavoro, costruirsi un futuro. Sono 80, metà uomini e metà donne, tutti di un'età superiore ai 40 anni che adesso potranno provare a rimettersi in pista. Si tratta di un progetto del quale il Comune di Arezzo è partner e che vede come capofila il Consorzio di Cooperative Sociali Cobb destinato a favorire l'inclusione di determinate categorie di persone svantaggiate. È un progetto che ha come obiettivo quello di avvicinare 80 persone, 40 uomini e 40 donne che hanno perduto il lavoro, ad una nuova opportunità di lavoro attraverso un accordo con delle cooperative che hanno costituito una sorta di unione, di indicazione, delle aziende e soprattutto i servizi sociali che hanno segnalato e selezionato, eseguito e continueranno a farlo persone che sono in difficoltà economica. La risposta alla difficoltà economica nell'emergenza del sussidio ci mancherebbe, ma nella continuità è uscire dalla emergenza, trovare un lavoro e ritornare in pista per farcela da soli. Per 42 delle 80 persone inoltre sarà attivata una borsa di studio con una durata oscillante tra i 3 e 9 mesi in aziende che hanno dato la loro disponibilità a derogare un'indennità calcolata sulla base delle ore effettive svolte sino ad un importo massimo mensile di 400 euro. Non è una fiction, è un percorso vero e proprio che speriamo possa poi portare ad una stabilizzazione, quello che è vero e che servirà comunque perché intanto occuperà un tempo, occuperà un tempo in maniera sana, occuperà un tempo che potrà essere speso successivamente o in quella realtà o in un'altra, ma siccome una delle questioni che più spesso ci vengono dette è quale esperienza hai avuto perché tu possa avere un'opportunità, quantomeno creiamo un'altra esperienza.